La circunvesuviana è sempre più maianiera delle ferrovie italiane. Gli investimenti dovrebbero invertire la tendenza, ma c'è anche la fuga dei cittadini dai mezzi pubblici e soprattutto un divario notevole tra nord e sud, sia per la qualità che per la quantità dei servizi offerti. Il nuovo rapporto pendolaria di Lega Ambiente conferma lo stato di difficoltà in cui si trovano treni e infrastrutture ferroviarie della Campania. Anche nel 2023 alla circunvesuviana viene assegnato il triste primato di rete peggiore. Pesano sicuramente i numerosi episodi dell'ultimo anno, i deragliamenti, le corse soppresse, gli impianti malfunzionanti. La situazione più drammatica riguarda il taglio al servizio che ha superato il 10% rispetto al 2010, viene spiegato nel dossier, dove però viene sottolineato che qualcosa in positivo si sta muovendo con investimenti consistenti da parte della regione Campania per il rinnovo del parco rotabile. 40 treni in costruzione e una gara in previsione per altri 40-50 treni nuovi. Il presidente EAB, Umberto De Gregorio, spiega Cosa è cambiato? Oggi abbiamo messo in campo tutte le opere programmatiche per trasformare la ferrovia, i cui effetti si vedranno nei prossimi anni. Dal risanamento finanziario ai nuovi treni fino al rinnovamento di gallerie e ponti. Abbiamo 50 cantiere aperti e fatto mille nuove assunzioni. Noi abbiamo fatto il possibile senza risparmiarci in alcun senso, assumendoci responsabilità e lavorando sodo.